buongiorno a tutti amici di nexus lab sono alessandro bertola e vi presento la nostra video prova con un po di ritardo del sony z ultra uno device che pur essendo uscito da diverso tempo volevamo provare farvelo provvedere più che altro perché la sua natura nel tempo si è trasformata da quella di puro phablet a tablet dalla stessa sony infatti è uscito un modello solo wifi che dimostra che le dimensioni di questo device sono assolutamente fuori scala forse anche per la gamma di phablet device che comunque presenta delle caratteristiche interessanti per questo merita attenzione allora questa è la scatola come potete vedere il lispiria z ultra disponibile in bianco in nero e anche in questa nella colorazione viola allora togliamo tutte le pellicoline abbiamo già tolto z ultra dalla confezione qua abbiamo il caricatore da viaggio piccolino molto squadrato e dall'altra parte ovviamente abbiamo anche il cavo usb micro usb essendo un prodotto destinato ai giornalisti molte volte tolgono le cuffie auricolari anche in questo caso ci vengono tolte probabilmente qualcuno prima di noi o le ha prese oppure semplicemente non ce li hanno messe ma vi assicuriamo che nella scatola sono presenti allora eccolo qui spero di riuscirlo a far ostare nell'inquadratura veramente grande veramente con delle dimensioni generose parliamo infatti di dimensioni come detto paragonabile quasi a un piccolo tablet 179 per 92 per soli 6,5 mm quindi altezza molto pronunciata larghezza nella media spessore molto ridotto corpo estremamente spigoloso ma questa è una caratteristica degli xperia fine 2003 praticamente tutti gli xperia di questo periodo presentavano un corpo estremamente spigoloso mentre nel 2014 abbiamo visto che lo z2 presenta già una struttura un po' leggermente più morbida design allora a livello mio personale non impazzisco per il design degli xperia più che altro a parte questo z ultra li trovo poco ergonomici perché questa spigolosità e lo spessore limitato soprattutto la piattezza della parte posteriore non sono confortevoli non sta bene in mano per il resto all'occhio anche l'occhio vuole la sua parte è veramente bello da vedere è un ottimo oggetto tra l'altro waterproof resistente sia alle infiltrazioni di acqua che di polvere può essere immerso infatti quando apriremo i nostri slot da questo lato troviamo la micro sd e la micro sim da quest'altro troviamo il connettore usb micro usb e il qua in basso l'altoparlante di sistema e qua a destra il bilanciere del volume più il tasto di blocco sblocco del dispositivo come detto waterproof quindi vanno sempre chiusi molto bene questi scompartimenti ve lo dire lo stesso dispositivo se sono stati chiusi bene o meno altrimenti avremo infiltrazioni d'acqua struttura dietro anche questa molto bella protetta da vetro ben strutturata troviamo il logo nfc sony xperia e la fotocamera qua una delle piccole critiche piccole anzi grandi critiche abbiamo questo mega phablet cosa costava inserire un flash led cosa che lo avvicina di più al mondo appunto dei tablet rispetto che al mondo dei phablet in questo caso direi di accenderlo ok eccolo qua troviamo questa bella animazione che ci accompagna ogni volta che andremo a sbloccare e questo è l'enorme display di cui dispone questo dispositivo display molto molto bello da 6.4 pollici tft pure se non tft di solito tft vabbè a parte essere pannelli un po lenti ma per uno smartphone va benissimo non hanno un grandissimo angolo di visione mentre questo si dimostra più che valido supera abbondantemente i 70 gradi interfaccia che è rimasta ancora quella vecchia chiudiamo qualche notifica interfaccia che ha le icone secondo me un po troppo piccole troppo piccole non sfrutta pieno i 6.4 pollici di questo display full hd e come potete vedere gli elementi si sono ben definiti ma sono veramente piccoli cosa che stona un po alla lunga prima di passare però l'interfacevole proprie volevo finire finire di illustrarvi il l'hardware abbiamo infatti lo snapdragon 800 spinto 2.2 gigahertz prestazioni infatti eccellenti lag e micro lag praticamente inesistenti 2 gigabyte di ram google na in questo caso come potete vedere gira molto molto fluido luminosità del display luminosità luminoso sì ma non tantissimo adesso sono al massimo della luminosità come potete vedere di solito venite abbagliati da il della luminosità dei display in videocamera in questo caso non abbiamo una luminosità più di tanto pronunciata buoni contrasti colori un po spenti anche qui si poteva forse fare di meglio impostazioni impostazioni molto classiche di questo xperia ancora fermo ad android 4.2.2 ma comunque ve lo abbassa un pochino ad android 4.2.2 ma dovrebbe arrivare android kitkat diciamo per fortuna visto l'hardware non ci sembrava il caso che è di abbandonarlo ad android jelly bean anche se da quello che sappiamo non ha venduto tantissimo questo tablet scusate questo fablet può trarre in inganno a volte tenerlo in mano ci sembrava effettivamente di avere un tablet da 7 pollici di impostazioni create ad hoc da sony e come potete vedere abbiamo connettività xperia le cose più carine allora abbiamo il mirroring schermo che possiamo praticamente tramite il widget che integra direttamente nel telefono possiamo trasportare tramite il wifi autonomamente il video e quindi anche l'audio a schermo se la nostra tv lo supporta abbiamo poi la possibilità di collegare il dualshock 3 non è ancora confermato il supporto al dualshock 4 ma sembra che sono in futuro lo porterà praticamente è quello di playstation 4 e poi la classica connettività personalizzazione abbiamo il blocco a schermo che può essere modificato secondo dello schermo e del dello sfondo impostazioni rapide che sono quelle sulla tendina possiamo attivarne diverse e ce le ritroveremo qua in alto fortunatamente sfruttano lo schermo non diventano slide se proviamo a inserirne altre come potete vedere a un certo punto ci dice il numero massimo quindi ne possiamo inserire al massimo 10 di impostazioni rapide anche qui abbiamo un motivo che è praticamente un tema mettiamo il motivo vintage che ci cambierà lo sfondo lo sformo schermata di blocco il colore di primo piano andiamo a cambiarlo come potete vedere è cambiato leggermente se andiamo a sbloccare il device anche lo sfondo è cambiato tastiera 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 che è incuriosisce perché essendo un dispositivo da 4 punto da 6.4 pollici e allora è impossibile scrivere con una mano sola non solo per la larghezza che comunque non è delle maggiori ma soprattutto sia per il peso infatti siamo sopra i 200 grammi 212 se non erro e poi l'ergonomia come vi dicevo è scivoloso questo smartphone phablet e come potete vedere dopo un po' mi scivola non è ben equilibrato e rischia di cadermi se non faccio ben presa con questo spigolo quindi assolutamente consigliabile la scrittura a due mani per il resto la tastiera funziona benissimo anche se forse io non sono abituato a queste dimensioni ma abbiamo trovato più veloce un certo tipo di tastiera più piccola più funzionale questa è sì personalizzabile in tantissimi aspetti non volevo fare questo ok suggerimenti lingue no torniamo alla tastiera classica per esempio se vado in impostazioni posso impostare tantissime cose di questa tastiera posso l'aspetto l'impostazione di testo tastiera a una mano che come vedrete me la porta qua piccolina ma in questo caso come vi dicevo non è un problema di larghezza dello schermo ma è un problema di pesantezza del dispositivo e di scarsa ergonomia quindi in questo caso dovrete avere pazienza e per forza di cose utilizzare due mani in tutti i casi successivamente andiamo nella fotocamera fotocamera un aspetto a cui sony tiene sempre particolarmente come detto manca il flash led usiamo un soggetto inserisco qua un soggetto questo è il nostro cordellino svizzero allora pur mancando il flash led le foto sono molto buone se non andremo ad effettuare con luce scarsa presentano un buon dettaglio presentano un po' di età un bel dettaglio però sicuramente si vede che è un sensore da 8 megapixel gli xperia ci hanno abituati a ben alto abbiamo tantissimi effetti abbiamo il selettivo la calibrazione della luminosità come potete vedere basta aumentare e diminuirla con uno swipe abbiamo poi la possibilità di aumentare la nitidezza di farla in bianco e nero filtrare un colore allora a livello quindi di personalizzazione non si può dire niente la parte della fotocamera è veramente curata abbiamo l'hdr eccetera come vi ripeto ci ha stupito un po' la mancanza di un flash led che avrebbe sicuro migliorato le condizioni al buio delle fotografie sfruttiamo in due modi il display di questo Z Ultra prima di tutto volevo farvi vedere le ottime sensazioni con un gioco usiamo Asphalt 8 che presenta un'ottima grafica gira molto fluido proviamo una gara una gara classica avanti andiamo avanti avanti va benissimo quello che abbiamo molto fluido con i giochi poi ho preso apposta Asphalt 8 perché pur non presentando KitKat questo telefono dispone comunque di parte dello schermo tutto occupato dal gioco Asphalt 8 infatti supporta questo mentre altri titoli no allora potete vedere ottima qualità perfetto per giocare vi faccio vedere altri due secondi abbiamo spaccato la macchina non si sa perché Asphalt 8 tra l'altro che si presta molto bene a far vedere una gamma di colori come potete vedere colori si buoni ma un po' spenti questo probabilmente è dovuto al pannello TFT che non presenta una qualità cromatica tra le migliori non davvero è proprio top di gamma di sicuro abbiamo appena visto lo Z2 da poche settimane e quella è tutta un'altra cosa da questo punto di vista visto? fluidissimo chiudiamo lo lascio in background vedrete che non scalda per niente molto sottile lo smartphone il tablet quello che è e si sente soprattutto dal fatto che in questa parte dove c'è il logo NFC scalda veramente tanto quei giochi un vero un vero mangia un vero calorifero questo piccolo phablet che di sicuro scalda parecchio proprio perché abbiamo molto vicino anche il chip Snapdragon come potete vedere la schermata dell'interfaccia gira cosa che non è presente in tutti i device Android comoda soprattutto per sfruttare le norme diagonale la troviamo una scelta azzeccata con un pinch out potremmo guardare le nostre home screen scegliere i motivi scegliamo il motivo air che non è altro che la stessa selezione che facevamo anche in precedenza possiamo inoltre inserire widget direttamente da questa schermata scegliamo posizione utente teniamo premuto e lo inseriamo qui purtroppo non ce lo inserisce chissà perché abbiamo i sfondi e poi le scorciatoie direttamente alle app senza dover andare nel drawer e selezionare la 1 anche il drawer un pochino queste icone piccole lasciano fin troppo spazio ci sarebbero piaciute delle icone belle d'impatto molto grandi ben dettagliate per sfruttare bene il display perché in effetti sembra un po' una valle deserta a vederlo così se andiamo a tutto a sinistra troviamo inoltre la possibilità di personalizzare il drawer e di visualizzare il Sony Select e il Play Store a livello multimediale vi apro la nostra solita cartella di test su Dropbox andiamo a scovarla un secondo come al solito quando si cerca una cosa non la si trova possiamo anche cercarla direttamente da qua Dropbox andiamo nella nostra cartella test e iniziamo con l'ascolto di Shakira ok quasi caricato usiamo Walkman audio veramente un po' scarsino sia a livello di potenza che di profondità un audio veramente un po' anonimo togliamo tutto questo che non ci dice granché infatti le cuffie sono straconsigliate in questo caso perché veramente non abbiamo chissà che qualità audio quindi lavoro abbastanza scarso da parte di Sony infatti impossibile sentire in viva voce in macchina durante la guida veramente ho provato ma niente da fare purtroppo un aspetto che forse è stato ridotto per lasciare lo spessore molto piccolo andiamo invece a vedere un video se la cosa migliora riapriamo Dropbox iniziamo con un AVI un DVX è andato in crash un attimo spiacente impossibile allora non è la prima volta che ci capita con questo Xperia che ci dia problemi la puntata precedente ok adesso funziona come potete vedere a volte va in crash la parte multimediale nella riproduzione di video ma soprattutto negli AVI non c'è mai capitato invece con gli MP4 come potete vedere buona qualità del video niente niente difetti un buon display come già detto vediamo però adesso un full HD come si comporta in MP4 allora fin da subito si vede che è veramente un po' smorto questo video lo fa vedere proprio bene non abbiamo grande nitidezza i colori e la luce è tutto un po' spento anche da questo punto di vista Sony secondo me poteva fare molto meglio di preinstallato cosa troviamo oltre tutte le app di Google non c'è tantissimo Sony inserisce la radio FM che è sempre una giunta più che mai gradita troviamo qualche strumento come il backup poi il resto calcolatrice e il new reader niente di che abbiamo poi l'album e i film album che non è altro che la nostra galleria i film praticamente è sia un server multimediale che sia la capacità di collegarsi a Video Unlimited per vedere i contenuti del nostro abbonamento Video Unlimited che è disponibile anche attraverso la precisa icona PlayStation Mobile molto comoda per chi ama giocare in mobilità con tutta selezione di giochi PlayStation Sony Select lo store di Sony che forse qualcuno di voi avrà usato qualche volta quindi cosa dire di questo Z Ultra device riuscito un po' così un po' un esperimento che non doveva essere rivisto doveva essere riprogettato design bello esteticamente ma scomodo scomodissimo da portarsi dietro soprattutto per un uomo magari una donna in una borsetta riesce a tenerlo ergonomia ridotta ai minimi termini display buono ma non ottimo fotocamera buona ma manca il flash led quindi un prodotto che è più un tablet se lo prendete come tablet ha un prezzo onesto un prezzo concorrenziale può ancora fare a casa vostra un ottimo mini ebook reader per come phablet invece fa alimentare da tutti i punti di vista non abbiamo un buon altoparlante di sistema impossibile usarlo come viva voce non abbiamo app dedicate non è molto vuoto e anche la stessa interfaccia non si sposa bene con queste dimensioni del display non capiamo perché sony non abbia riprogettato un minimo la dimensione delle icone questo è tutto un saluto da alessandro per nexus lab ciao a tutti amici di nexus ciao a tutti Grazie a tutti.